Circolare della sede centrale ENS Oggetto Annuncio svolgimento quinto convegno nazionale LIS Cari Presidente e Commissari, siamo felici di comunicarvi che dopo gli storici convegni nazionali sulla lingua dei segni italiana che si sono tenuti a Trieste nel 1995, a Genova nel 1998, a Verona nel 2007 e a Roma nel 2018, sta per arrivare il quinto convegno nazionale LIS, che avrà come tema la LIS, Patrimonio Culturale o Capitale Umano. Obiettivo del convegno è delineare il quadro attuale degli studi, narrandolo attraverso diverse prospettive e approcci, e costruire ulteriore dimensione di visibilità e consapevolezza del patrimonio linguistico rappresentato dalla LIS. Il convegno, coordinato dalla Vice Presidente Nazionale ENS, Rosella Ottolini, si svolgerà l'11 e il 12 maggio 2023 presso il Centro Congressi Beniamino Andreatta dell'Università della Calabria. Il Comitato Scientifico, il cui presidente è il consigliere direttivo ENS Giuseppe Amorini, è composto da esperti di diverse università, i nomi nella circolare. Sarà presto pubblicata la Call for Papers per la raccolta di proposte di relazioni scientifiche. Le lingue ufficiali del convegno saranno la lingua dei segni italiana e l'italiano, saranno garantiti i servizi di interpretariato da IN-LIS e di sottotitolazione. Grazie 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 Grazie.